visto che ci siamo facciamo un video di domenica parlando di questo pitch book pro perché poi sennò le cose si accumulano c'è troppa roba di cui parlare non faccio in tempo poi tanto sicuramente a quest'ora non state facendo un cazzo quindi poi vedo tutta la giornata per guardare questo video poi comunque è un avvenimento abbastanza importante perché c'è stato un guest posing con under la brada ovviamente col cappellino ridicolo per poi fare un video su questo cazzo di cappellino utilizzato secondo perché si vergogna da calvizie samson dowda tele clansford nick walker ramondino urs kaliszynski andrew jack martin fitzwater e se non sbaglio io ho anche detti tutti comunque questo video preso da alex muscle perché è molto molto vicino abbastanza in hd poi ho messo anche quello con l'inquadratura ferma cosa possiamo trarre da questo guest posing allora sicuramente i bodybuilder che viene impressionato di più sono stati andrew jack mi è piaciuto abbastanza martin fitzwater poi samson mi ha deluso un pochino cappellino labrada mi è piaciuto abbastanza andrew jack è stato il più imponente probabilmente non so quando gareggerà però sembra un po meno liscio di altri che non devono gareggiare non è definito la gara però rispetto a un samson dowda che comunque gareggiato neanche due mesi fa ha già rimesso quel il suo grasso corponeo fisiologico proprio probabilmente che sembra che non riesca a star senza mi è piaciuto molto la brada che anche lui non è da gara però immagino debba gareggiare perché sembra che stia un po definendo nick walker e qui guardate un po lo stomaco che se ne va un po a fanculo l'hanno messo a fianco a martin fitzwater perché gareggeranno entrambi al new york pro tra una settimana devo dire che credo ancora che nick vinca il new york pro però vedendolo vicino a martin si vede un po quello che sta diventando nick cioè secondo me il suo corpo non regge a livello strutturale non è geneticamente predisposto come un jack lansford che sicuramente molto più bello da vedere molto più estetico come già detto in altri video secondo me sta mantenendo una definizione superiore rispetto all off season dell'anno scorso perché sa che deve portare davvero il suo e game come dicono gli stati uniti cioè il suo pacchetto migliore la sua miglior condizione per battere nuovamente auspicabilmente per quanto lo riguarda ad i chupan quindi mi sembra più definito bello pieno molto molto convincente come detto samson non mi convince particolarmente cioè secondo me è un po peggiorato quest'annetto che ha gareggiato troppo non so se sia per quello per altri motivi andrew jack davvero imponente bello sto ignorando i due classic anche se urs era il più definito tra i due cioè lui ramondino nonostante abbia gareggiato anche ramon più o meno di recente quindi questi sono un po i miei pensieri anche qui venendo da lontano quelli che saltano più all'occhio per quanto mi riguarda sono andrew jack che molto alto delle clans for che chiaramente è migliore cioè c'è poco da dire salta all'occhio perché è il migliore però anche un martin fitzwater per la definizione mi piace cioè comunque gareggiato a detroit un mesetto fa deve gareggiare di nuovo potrebbe dare del filo da torcere a nick poi a fine posing mettiamo così l'ha messi anche vicini per fare una mosmascola lui e nick e devo dire che stanno bene vicino cioè martin regge il confronto in questo senso quindi vedremo io sono ancora dell'idea che nick vincerà però come detto mi aspettavo un po di più da nick ma ne parlerò a fine video samson secondo me è un po peggiorato l'ho già detto cioè non mi sta convincendo quanto mi era convinto l'anno scorso due anni fa anche in questo la spread cioè è alto quasi quanto andrew jack però cioè non è largo cioè il meno largo di tutti è meno largo di quelli che sono più bassi di lui e questo non va bene cioè non lo so spero che qui ti faccia bene spero che gli diano un po di anabolic chicken si mette in riga con la definizione col cardio perché sinceramente mi aspettavo di più cioè penso che l'olimpia sarà ancora un discorso tra derek e adi e se la giocheranno nick e samson per il terzo posto cioè credo sia ovvio la brada lo vedete a sinistra il cappellino questo cappellino del cazzo bisogna farci un video a parte come ho detto su questo cappellino perché è ridicolo mi sta piacendo si è ingrossato molto rispetto all'anno scorso già l'anno scorso si è ingrossato molto rispetto al 2022 ha sempre sui soliti limiti buco nella schiena petto strappato bicipiti se non sbaglio strappato anche esso però è sempre abbastanza nobile e convincente con un bodybuilder al ridosso della primissima fascia quindi non so come reggerà però secondo me è stato un buon guest pose in questo di tutti quanti interessante cioè non vado al dettaglio di ogni posa anche se questo absentize di Andrew Jack andrebbe analizzato in uno specifico perché è migliore però in generale questo Pizzo Pro è stato interessante il Pizzo Pro lascia sempre qualcosa di interessante da dire anche perché non c'era Big Grammy che sarebbe stato molto molto coinvolgente secondo me in mezzo a tutti questi altri contanto che dovrebbe pesare sui 160 kg però purtroppo non l'abbiamo visto parlando un po' di Nick come stavo dicendo è più o meno come ce l'aspettavamo lo stomaco si sta un po' allargando cioè sta diventando un po' a livello di palumboismo cioè ho fatto un video su palumboismo quindi altri vi voglio vedere così palumboismo cioè vita che si allarga molto arti che spariscono un po' soprattutto le gambe pancia gonfia e non per criticarlo perché vanno valutate le pose singole non tanto transizioni eccetera 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 però mi aspettavo un po' di più secondo me non lo vedremo mai mistero limpia io non ho mai pensato che potesse vincere mistero limpia a meno che non muoiono a di ciopane della clansford però per quelli che dicono vincerà il mistero limpia secondo me no perché secondo me vedremo nel corso degli anni un peggioramento continuo non dico drastico però lineare perché non regge quello che non riesce a reggere fondamentalmente sta un po' assumendo delle fattezze grottesche voi direte il bodybuilding è grottesco ma lui di più rispetto a un del clansford che portato genticamente che più estetico che più bello da vedere non ha questo palumboismo che ha accennato nick secondo me e poi chiaramente sono sempre mie opinioni personali credo ancora che vincerà il new york però mi aspettavo un po di più non mi aspettavo che martin fitzwater raggesse il confronto però c'è ancora tanto da dire li vedremo tra una settimana penso che ne parlerò ancora in questi giorni magari elaborerò un po questo discorso di nick walker e fare un paragone tra nick martin c'è tanto da dire non conto di morire neanche io come adi e derek quindi fatemi sapere un po che ne pensate tutte queste considerazioni chi vi è piaciuto chi non vi è piaciuto fatemi sapere del cappellino di hunter fatemi sapere di samson perché non regge la definizione perché dopo due mesi nemmeno è di nuovo così liscio eccetera 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 martin se avete parlare anche dei classic parlate dei classic però dulcis in fundo è stato un guest posing molto interessante ha lasciato aperte molte porte fa sì che idioti come me possano parlare di queste minchiate comunque sto scherzando fatemi sapere che ne pensate ci aggiorniamo buona domenica buona ciao ciao ciao